Una vigilia di campionato a dir poco surreale, con occhi e orecchie puntate al destino del Pisa e al suo possibile ripescaggio in Serie B. Ripescaggio che alla fine non è avvenuto con il Vicenza che andrà a completare la griglia delle 22 squadre del campionato cadetto. Via Libera quindi per il Teramo che oggi pomeriggio giocherà la prima partita della nuova stagione all'Arena Garibaldi. Chissà se il mancato ripescaggio avrà ripercussioni psicologiche negative su un'Erazzurri, un'ipotesi a cui Vivarini non vuole nemmeno pensare. Il Pisa infatti resta una delle squadre favorite per il salto di categoria e dispone di una rosa di primissimo livello con giocatori come Paci, Disuzzo, Iori, Morone, l'ex L'Aquila, Frediani e il marocchino Rashid Armah. Al Teramo serviranno soprattutto l'entusiasmo e la giusta aggressività per portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda la formazione sarà pronto al debutto il portiere Serraiocco, rientrato in prestito dal Brescia. Ancora qualche dubbio a centrocampo con Amadio che potrebbe essere della partita mentre Petrella scalpita per una maglia da titolare sull'auto di destra. Non dovrebbero esserci problemi per l'impiego in difesa di Ivan Speranza mentre si rivede tra i convocati Caidi. In attacco con molta probabilità verrà schierato Lapadula.